Un anno e sei mesi di reclusione. È la pena pateggiata questa mattina in tribunale da Vincenzo Refolo, il medico di base Salentino di 58 anni, arrestato lo scorso 4 aprile per aver picchiato un suo paziente, un anziano di 86 anni con la stampella colpito con calci e pugni davanti all'ambulatorio medico di Calimera. Si chiude così la vicenda giudiziaria che determinò l'arresto ai domiciliari e la sospensione della professione del dottore, il quale durante l'interrogatorio di garanzia spiegò al GIP di aver perso la lucidità a causa del forte stress dovuto sia all'emergenza Covid-19 ma anche ai contrasti avuti durante l'anno con la ASL. La sentenza è stata emessa dal giudice Edoardo D'Ambrosio su istanza avanzata dall'avvocato difensore Ladislao Massari. Il medico, dopo essere stato arrestato e finito ai domiciliari, sul finire dello scorso mese era tornato libero. Il GIP di Lecce, Giulia Proto, aveva accolto l'istanza di revoca della misura cautelare presentata dall'ifensore del medico che per l'episodio è stato sospeso dalla ASL di Lecce. Dopo l'aggressione, ripresa con un telefonino e diventata virale sui social, l'anziano venne ricoverato in ospedale dove gli vennero riscontrati numerosi traumi e ferite.